Ehi, do solo un'occhiata. Ehi! Ehi. La pausa è finita. Smettila di perdere tempo. Forza, mettiti al lavoro. Ok. Cavolo. Ok, a dopo. Andaggio. Ehi, è parecchio tempo che non vedo Busar. Sì, è in giro. Ultimamente Copland lo tiene parecchio impegnato. Digli che deve muovere il culo e occuparsi di alcuni lavoretti per me. Sì, glielo farò sapere. Si vede. Beh? Alcai. Che vuoi, randaggio? Che problema hai? Uno dei miei era in un campo di ripugnanti, giù ad Iron Butte. L'hanno torturato, come fanno sempre. Ma volevano anche sapere se conoscesse due motociclisti, uomini. Se li avesse mai visti o sentiti. Girano parecchie moto qui, ma che... Cosa c'entro io? Li chiamavano Mongrel. Quanti randaggi hanno una banda adesso? Come se avesse senso. Secondo me, hai una taglia sulla testa. Che si prova a stare dall'altra parte? Al, perché non mi mostri quello che hai? Non ho tempo per le tue stronzate. Come vuoi, Dick. D'accordo. Capisco. Capisco. Capisco.